... ... ... ... Ma bella, 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 tutto bene? Oggi ragazzi, nuovissimo video in compagnia di Tara Oi, sono io, Tara A favore, muori Ma io? No! Non vale! Guarda che l'infamata? No, e ora come faccio a vincere? Ah, te l'ho ucciso proprio Ok, no, così no Non vale, tu sei messo meglio di me Non è vero, ho solo la spada in... Sì Ok, allora, quindi 1v1, vuoi farmi fuori così? Ma tu hai ancora il letto, cosa vuoi? Non è una scelta mia Se tenere il letto o meno Il letto devi coprirlo tu Mi impettivo di struggertelo Dai, vediamo cosa si fa Ma dove sei? Io sono nella mia base E la tua base, qual è? E' ancora accanto la tua Ma qua... va bene Oddio, che infarto Oddio No, via, 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 via No, oddio, oddio Non è vero, non ci crederò mai Rivela la tua posizione Ok, l'ho capito Ah, eri sul letto Mi credo Ma ancora Ma che c... No, dai, non ho blocchi Dai, non ho blocchi Oh, 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 no, ok Non ho blocchi Ti frego Ti frego Ti frego, che c... Non ho mai vinto la mia ansia Vita mia, ti frego Manco che non tu scappi dalla polizia Oddio, corri No, dai, non ho blocchi Cosa faccio? Ciao No, per dire, per sto morendo No, ok Ho tre cuori Cioè, ho... Oh, ho sbagliato Basta, che notore No, basta, un culo Non ci credo No, ma che ansia No, no, ti frego Non mi ha giocato Ok, no Vai, jointarti Fatti sotto Secondo te chi sono? Costruttore del Ponte Morandi? Sì Ho sbagliato Contro chi siamo? Gigi abbiamo vinto E niente, il video è finito Ragazzi, lasciate like E noi ci vediamo nel prossimo video Bella Ok, no, basta Il ponte è questo Questa la taglio Ma come carpe hai portato il letto? Non ci credo Hai visto? Cosa fai? La mia bardatura No, non è te Ma come fai a essere ancora vivo? Non muoio Guarda, è ancora vivo Lascia stare il mio letto Guarda qua Tutto il mio impegno per bardare Non ci posso credere Che persona Sono la persona che distrugge i sogni Ce li metterò un giorno a rimetterlo Dai, ce la farei a guardare Non ho visto la tua testa Non mi fai prendere il tuo letto, vero? No, è mio Via, 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 via Ok, carpe Ok Ti sei bagnato No, cosa hai capito? Tu Ma che ce l'hai visto? Non ho visto C'è il clear glass Eh no, va bene Si è proprio Guarda che è lì Grande mossa No, no, no Non va bene così Non va bene così Il video dovrebbe essere Imparo a fare il god bridge Non rompo il letto a tara Beh si può switchare In un momento all'altro Diciamo di fare un po' come gira Ma che avvoltoio che sei Ciao Il mio vetro Il vetro non viene a niente 360 Ultra bucket No, no, no No, no, no No, no, no Ma che carpi No, no, dai Vuoi sultare Wuko? E niente E Wuko ha iniziato a diventare Autistico Ok No, no, no Sono morto Son morto Son morto Ho finito i blocchi Sii Che dovevi fare ora Oh no Oddio Non ci No, no, no Mi sei Falta i ponte Mi sei Miferentivo Ah anfosto Mi fatto fuori Sono felice Sono felice Che è stato? Ho sentito un suono Che suono ho sentito? Sono tipo un fischio Sì, quello lì No, io no, di sicuro Ma che? Una tarantola Una tarantola Tarantola Potrei scendere da lì Questo è stato abbastanza doloroso Ti prego No No, 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 il piccone Ho un cuore Se mi vuoi bene l'omicidio però No, non sono capace di ucciderti E niente Non salire No, no No No, no, ti prego Mi lasci resti stare per favore Vorrei tipo vivere Godermi gli ultimi attili della mia vita Dieti di questa Oh, è sì Ma cosa c'è l'acqua? Come faccio? Come 5 ci sono io zero? Non è vero Non è vero mai Non è vero mai Non è vero No, aspetta Aspetta È diventata più Un milio carpi Nelle bedwars Che imparo a fare il god bridge A questo punto facciamo due video Poi prima di finire il video Volevo ricordarvi che se arriviamo in 15.000 iscritti Farò un video molto speciale Quindi ovviamente se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Inoltre vi ricordo anche di seguirmi sui vari social Come Instagram Perché spesso pubblico storie Inerenti alle live o ai video Semplicemente contenuti al di fuori di YouTube Quindi cose anche relativamente divertenti Poi vi ricordo anche che faccio le live su Twitch Trovate il link in descrizione E visto che siamo qua Ricordatevi di seguirmi su Telegram Perché ogni volta che faccio una live sia di YouTube che di Twitch Mando il link lì E ovviamente anche per i video Mando sempre il link lì Detto questo vi ricordo ancora di lasciare un bellissimo like E di iscrivervi al canale Detto questo Noi ci vediamo in un prossimo video Fate i bravi E non fate cavolate Ciao Noi ci vediamo in un po' di chi Ciao Noi ci vediamo in un po' di chi